Da oggi a venerdì prossimo a Pescara nel lab vaccinale di Via Tirino, dalle 11 alle 13 ci saranno vaccinazioni libere, assessore, un ulteriore incentivo per la popolazione e per la cittadinanza? Sì, secondo quelle che sono state circolari del generale Figliolo sostanzialmente si adotta anche a Pescara, anche se rimarrà l'impianto della prenotazione per evitare assembramenti o attese inutili. Comunque già lo stavamo facendo precedentemente perché avevamo dato un target, perlomeno la ASL fino a 40 persone, di poter acquisire anche la vaccinazione senza la prenotazione. Da qui in poi ovviamente si accentuerà questa cosa che già stiamo facendo e l'obiettivo è sempre lo stesso, quello di vaccinare il più numero possibile di persone e soprattutto andare incontro a coloro che sono un po' resistenti a quella che è la vaccinazione cercando di permettere loro anche di non avere scuse alla vaccinazione. Bisogna vaccinarsi perché è l'unico modo per uscire da questa situazione. Il mese di agosto, assessore, c'è stato un rallentamento fisiologico delle vaccinazioni in tutta Italia perché chiaramente si è dovuto anche dar modo ai sanitari di poter fare qualche giorno di ferie. A settembre si dovrebbe riprendere anche con il turno pomeridiano? Questa scelta va fatta insieme all'ASL, la affronteremo entro questo fine del mese per vedere quelle che sono le attività. Come dicevi prima c'è stato un piccolo rallentamento, lo dimostra il fatto che nell'open day che abbiamo fatto sabato su 700 vaccin disponibili solamente 400 sono stati coloro che hanno aderito però contiamo che ovviamente ci sia sempre disponibilità per vaccinare. Poi è ovvio che bisogna fare anche conti con quelle che sono le farmacie che oggi fanno le vaccinazioni e i medici quindi probabilmente una parte delle attività sarà anche assorbita da costoro. Noi siamo pronti non appena chiariremo il quadro vaccinale con l'ASL per ripartire di slancio.